salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui con il blade 2 ci siamo lasciati in questo esatto punto quindi ricontinuiamo ovviamente da da qui vi ricordo che per la maggior parte del gameplay starò in silenzio per godere appunto del gameplay e dei suoni quindi vi consiglio di visualizzarlo con le cuffie perché il comparto audio è veramente tanta tanta roba quindi non perdiamo tempo e proseguiamo la nostra avventura cimba Hai pensato che potrebbe evitare il tuo pasto, Senua? Hai cercato a correre, non ti? Non si può perdere. Non puoi mai perdere. Hai pensato che hai scelto? No. Hai pensato che hai lasciato in Hell? Dillian. Dillian, sei Dillian. 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 Hai dobbiamo mai tornare. Dilla. Dillian.... Perlattare sempre la scоже che ti 팔à. E lo Kelvinino. Ci sono際ala spostata. Di tutti iancesi contati. Horreggiamo il dito. Loro mi avere... Dillo non giverò mio pasto... ...le perdere tutto il chuckimento. Ne pe добрé no 빠� Eccovani... ...ann versele. Dunnare... ...le separatamente. I carry it with me You don't have to hold on to it It drives me forward She cannot forget It's a promise Not a prison Keep it close Don't let the past stop you Don't let me drag you down Your destiny awaits Look up The worst pain The cruelest blows They make us who we are Do you see that? She does She won't lose them again Her mother Her lover She won't forget She won't let them slip from her Like light fading as eyes glows She will hold them Ok, qua direi che È chiuso Ah, ok Stavo per di qua Non possiamo entrarci invece It's hanging from a Like a cow What could do this? If I can remember So Non c'è niente Non c'è niente What was that? Something is hidden Can you see it? No No Siamo in via di Di vedere nessuno Però Controlliamo bene la zona Andiamo qua dentro Allora Vado Allora Allora Qui sembra Che si vada lì Per il ponte Ok Ok No Over there What can you see? Something different Good What is it? Look Faith Faith Focus Anwar Focus Oh C'era una Una testa Ecco perché non uscì a vederla Ok ci ha liberato il passaggio Look, life, focus In all the places of the earth They know that the gods and spirits Affect man's path All the misfortune That befalls man Lies at their feet If you have eyes to see You see their presence And their power Keep your eyes open, traveler And you might see their faces Ok In all the places of the earth They know that the gods and spirits Affect man's path All the misfortune That befalls man Ah va bella Sta ripetendo Ora sembra esserci Una sola Cioè tante fessure Soltanto una è Illuminata Devo prestare attenzione Perché sicuramente ci andranno a Liberare dei punti In cui possiamo passare Ok Credo che l'unico posto dove andare È il ponte That scream That voice Something dark You need to go up there Don't let them see you coming You need to find out Don't let the monsters find you You can do this We believe in you She knows what it's like to fear As a child Scared of the night Her mother's soft voice calmed her But now She's alone And there's more to fear Than just the darkness There are ghosts That walk in the noonday sun Monsters that climb out From under the bed Some shadows Can't just be dispelled With light Some shadows Don't want to scare you They want your blood Your flesh Your life But the voices are calling They're calling Something is drawing Keep moving towards it The glow of the night But quietly Slow I'll take What does that mean? What does that mean? It's terrifying So beautiful You can't sense the evil here It's in here Listen 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 What are you doing? Come on You want me to stump me I'm hurting you I'm hurting you And he'll kill us Now You want me to Leave me Here At least Collled and The animal The human Crage The flesh Is the Then Let's Turn Tel No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, vedete, qua non ci posso andare direi. Devo trovare una strada alternativa. Ah, ottimo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, qua però Mi è da pensare che O ce ne siamo dimenticato uno Visto che abbiamo sbloccato il terzo E il primo Qua ce la racconterà di nuovo Anzi, una cosa che ce ne so O altri due Vabbè Andiamo indietro mentre ce la racconto Magari non sono nell'ordine In cui vengono Vengono trovati Magari il due Che lo trovavamo più avanti What's that shit? What are they doing? They're butchering her Slaughtering her You thought it couldn't get any worse How could she make it stop? What are they? It's too much What are they? It's just too much They're not human They can't be They're monsters The right of blood and fire You will never understand this power Get away from me Something is coming Get away from me Oh no Get away from me I'm gonna kill you Get away from me Get away from me I don't want me Oh no I don't want me I don't want to go down there You have to She has no choices There's no other path But you will drown in the blood Blood and bones Alle le persone, anche la tona… E non è cane, lei! Sìara, non puoi prendere. Quai! Sì, dada! Nonno! Per te andare senza ampeciare. Posso? Sta tu. Se è un problema. Stai rimando e conoscere. Più! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non c'è da combattere. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Oh, siamo fortunati. Come on. It all just... It all just stopped. Yeah, è il giorno. She'll have to hide from the light now. Plus, she will hunt us. Find our trail as soon as she can. You're not safe now. Let's go. Who are you? My name is Fargames. I'm from a settlement nearby. I came here to seek help. He almost died. He's raised, like, had fallen to the dryer. And to something else. I walked into a massacre. What was that? And they took me as well. But he was not like the others. Why were you bound to that pole? What were the droiga doing? We're calling to the creature. Drawing her forth with thunder and rot. The creature called through death. And I was an offering. To droiga. But why? Why were they calling it? It killed them. Are we safe now? I seem to worship her. He seems too calm. What if she comes back? Her dark heart seems to speak to their own. I mean, all the old gods have left this land, so... We should leave as well. Well, we find yours where we can. This land is cursed, Senua. You will only find death. Everyone is dying, and you know they will blame you. Everyone does. But we do. What are you going to do? What can we do? Follow him. I need to return home to my people. Go with him. He can help you. If you come with me, I will offer you what help I can. But I have to warn you. A creature stalks my village. Ah. Gail, doiga. We can offer you refuge for a time. But not safety. You've seen her before. Oh. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this land. From here to my village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can find her, Senua. I think she's fermated a moment. Look at that. It's not an other way, this. The Skulls say that Gretir fought and killed the Drogger Glamour. But not before Glamour had cursed him. His strength would be turned against him. His deeds bring death and exile. And he would be always before Gretir's eyes, making him afraid to be alone. He saw all sorts of phantoms wherever he looked. And thus, people who see things that aren't there, are said to have Glamour's eyes. Ok, quindi mi avete a pensare che non qualcuno solo siamo perso per strada. Vabbè, adesso che lo so ci presto un po' più di attenzione in queste strade, diciamo, secondarie. Fortuna che in senso si è messa a serie, quindi ci stavo aspettando. So you're from Orknair, by your accent. How did you come here? As a slave. I have the slave master tied down there. He brought you here. The master. Maybe he escaped. We don't know his name. We do now. I didn't ask his name. Thorkister of Borkavirki. There. We need to go there. He knows. He knows. You know it? Can you tell me how to get there? Yes, but why would you want to go there? I'll kill you. Or worse. You need to go there, Sedwar. Don't doubt. Don't be a coward. He can help you. He will show you the way. You don't need that monster. What was the name? Forkister. By the gods. What a terrible thing this is. The dragon would always savage. This is worse than I ever thought possible. I believed that with time, we could claw back our land. He wished that, but he didn't believe it. He has no hope. This gets darker, bloodier with each day that passes. This is worse than that. That monster Thorkester. It's still alive. Still alive. What are you going to do, Senwa? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave him. I don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. But if you leave him, he will die. Drugar? Or simply starvation? Don't doubt, Senwa. If Drugar avions l видите, there would be no less than he deserves. Help me. Non ti senti peggio, non è vero. Lei non può farlo. C'è qualcosa di lui. Lei ha visto, non solo un monstre. Lei ha visto un rayo di luce. Lei è vero. Non c'è una scuola. È così stupida. Non è listeningi a noi. È stupida. Lei è salvando lui. E' questo monstre, il monstre. La wound sembra male, Torghister. Non voglio parlare. Se tu accepti la mia hospitalità, se potremmo trattare. Non farò farlo solo. Io vrei con te. Ma questo non cambia nulla. Non aspettare una gratitudine da me o mio padre. Come potremmo? Non mi ha detto che lei è. Il Togha. È così molte domande. È un gigante. È un luogo all'interno. È un luogo all'interno. È un luogo all'interno. È un gigante. È un luogo all'interno. Ma ora che ha bisogno. Fargrimmar conosce questa terra. Molti hanno cercato di combattere loro, ma tutti hanno scoperto. È un luogo all'interno. Talvez i guardi potrebbero i loro, ma non ci sono dei luogo all'interno. Ci sono i giocatori. Ci sono i luoghi di giorno e i cattoli. Puoi pensare, che è un luogo all'interno. Beh, almeno c'è un luogo all'interno. Almeno c'è un luogo all'interno. Ma non ci sono. Le nuove crescono più lunghe. E come l'interno... Non c'è un luogo all'interno. Non c'è un luogo all'interno. C'è un luogo all'interno. A presto il tempo di mani avrà finito. Beh, non rendiamo una cosa troppo semplice, no? Questa è un luogo all'interno. Questa è un luogo all'interno? Ma scoperta. In pain. Ho letto i miei persone qui. Ho prometto i loro un nuovo vita. Ho chiamato questo home. L'escazione dalla maldia e la misura all'interno. Per un tempo eravamo felici. Come noi. Eravamo felici. Se qui? Quando il volcano e la scuola... ...e un luogo all'interno. ...e un luogo all'interno. Iltega stocca il mio settore quando la mattina si fa. Ci trompe i nostri e mati i che i nostri. Ci siamo starvati. C'è un luogo all'interno? C'è un luogo all'interno. Ci hanno scoperto. Ci hanno scoperto. Ci hanno scoperto come le stagioni di giorno. Ci sono i nostri. Ci sono i nostri. Ci sono i nostri. Ci sono troppo fuori. Ci sono i nostri. Niente a niente i nostri numeri fallono. L'altro chiedevi di aiutare. No, non. Ci sono i nostri. Ci sono morti se non lontano. E' rimasto veramente pavore. Di questo insediamento. Faccio l'altro bastone. così poi abbiamo trovato lungo la via e abbiamo trovato il palo con le lettere però non vorrei che qua ce ne fosse un altro che risfugge scordiamo un attimo la zona ok come sembra che ci sia niente magari quel palo è semplicemente un'indicazione però visto che c'era pure prima mi è venuto a dubbio magari da qualche parte c'è quello che ci serve andiamo da qua che vita che vita un attimo la faccia ok oh l'albero ok anche qua direi che me ne sono scortato uno visto che abbiamo fatto il primo e il terzo ah eccolo infatti il bastone eccolo qua the scalds tell how in the time of Gretir's kinsman Forgrim there was a terrible famine no crops could be grown and the fish fled the nets it lasted years and the people were desperate there was no respite even in spring since terrible gales from the north would rise up and set in for weeks this is a cold and unforgiving land Sinua ok allora torniamo insieme ai due tizi e vediamo cosa hanno da dirci qui 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 è blocchiato qui 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 oh qui qui chi è l'ho finita è l'ho minuto qui 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 Vabbè, hanno proseguito... ah, ecco lì Stavo, è solo proseguito senza essere noi Eccomi E' il giocante ovviamente Ah, è buche Can see the threat that binds the world Can feel its hidden pulse And knows when that pulse quickens She feels it now A tremor on her skin A being taking shape C'è qualcosa che è venuto. Ok. C'è qualcosa che è venuto. ...dia sentire lo puoi. Puoi sentire? Puoi sentire? Puoi sentire. Trae la rage. Scegavatevi? D'یکS volto. D'acqua. Cosa. Ildioiga... ...dia destruyò e manca nothingà. D'accordo. She's here You need to run Run! She's here Let's go Get to the hills Get to the hills I will not make you Uh, uh, uh Uh, 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 uh Okay, remember that? They're 30 Go ahead They are helping you Oh, oh Let's go Don't stop They're donc Don't stop They'll take you Oh, you Don't stop Don't stop All you Don't stop Che cazzo è successo qua? Perché andavano in giro solo le nate? Che cazzo è successo? Che cazzo? L'attacco del gigante Che cazzo? Che cazzo è successo? 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 ok ragazzi allora ci possiamo anche fermare qui ho un attimo fatto luce anche nella mia stanza erano scese le tenebre io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao